Queste sono le nuove Brooks Cascadia 18, le nuove scarpe da trail tecnico di casa Brooks. Adesso insieme vediamo i pregi ma soprattutto i suoi difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo subito dalla suola di queste due Cascadia 18. Qui troviamo una suola in gomma TrailTac Green di Brooks, una suola con un tassello poi alto 4,5 mm. Quella che però è molto interessante di questa suola è anche la sua geometria, perché troviamo delle scanalature sia orizzontali sia verticali che fanno sì che la scarpa possa andare a flettersi, che possa andare ad adattarsi ai terreni più tecnici. Questo è sicuramente ottimo appunto quando andiamo sul tecnico ma ci dà anche un ottimo grip perché vi assicuro che in generale come grip è veramente buono dove magari si tenta un pochino sulle rocce particolarmente bagnate e particolarmente lisce. Lì bisogna fare un pochino di attenzione. Però in generale su roccia asciutta e anche su quello che può essere il fango tiene veramente molto bene. Una suola, quella di Brooks, che comunque è sicuramente anche abbastanza durevole perché io le ho utilizzate davvero per abbastanza tempo queste Cascadia 18 nell'ultimo mese e devo dire che a livello di usura sono ancora buone. Passando invece all'intersuola, qui troviamo un'intersuola in DNA Loft V2, dunque un'intersuola proprietario di Brooks. troviamo un drop di 8 mm perché è alta 20 mm al tallone, 12 mm sull'avampiede e in più all'interno dell'intersuola troviamo anche la geometria trail adapter con una piastra che ci permette di evitare di avere dei brutti inconvenienti quando andiamo a correre su le rocce. Ma come performa? Sto viaggiando circa 4,30-4,25 al chilometro, devo dire che Cascadia 18 sono belle reattive, cioè si viaggia, si viaggia bene davvero e l'intersuola è bello bello reattivo. In generale è una scarpa veramente molto reattiva, molto reattiva ma anche molto protettiva dalle rocce perché come dicevo con la sua piastra possiamo correre tranquillamente sulle rocce più sconnesse e non avremo problemi. Un'intersuola poche grazie anche alla sua rigidità ci assicura un'ottima trazione anche quando andiamo su terreni particolarmente verticali. Passando invece alla parte superiore della tomaia iniziamo dal puntale per cui troviamo un puntale che secondo me è un po' la nota dolente di questa scarpa nel senso che ha un puntale mediamente rigido. Dato che è una scarpa pensata per andare su terreno tecnico dove c'è tanta roccia mi sarebbe aspettato un pochino più di rigidità, un pochino più di protezione sulla punta del piede. Cosa però apprezzata è sicuramente tutta la parte che va tutta attorno alla parte bassa della tomaia in modo tale che nella tomaia si possa strappare e ne abbiamo problemi quando andiamo a strusciare contro la roccia. Oggi giornata veramente calda, penso che saremo tranquillamente sopra i 30 gradi, c'è veramente un bel sole, ma devo dire che queste cascadi a livello di traspirabilità davvero molto bene, soprattutto col giusto calzino si va via tranquillamente, non fanno sudare, traspirabilità direi buona. L'automagna infatti è stata anche la rivoluzione rispetto alla cascadia 17 che adesso è sicuramente più resistente in termini di durabilità e come abbiamo visto anche in traspirabilità non se la cava per nulla male. Parlando invece del tallone, qui troviamo un tallone abbastanza basso perché comunque parliamo di 20 mm solo di intersoal sul tallone, un tallone che anche quando andiamo a correre su terreni più accidentati è abbastanza stabile. Io ci ho corso tranquillamente davvero anche sulle discese abbastanza impervi e senza nessun problema e da punto di vista della stabilità sicuramente è sempre un po' soggettiva, ma la scarpa in sé è abbastanza stabile. Infine parlando di linguetta e lacci, troviamo una linguetta molto classica, ben imbottita, che isola bene dai lacci e i lacci anche loro molto bene, lo svolgono in un'ottima funzione, c'è anche il cordino per fermarli e in generale la composizione tra tomaia e lacci fa sì che il piede all'interno della scarpa resti sempre ben serrato. Parlando della spazio sull'avampiede, devo dire che come spazio è abbastanza medio, anche se secondo me c'è qualche millimetro in più rispetto alle cascadia 17. Secondo me sono un pilino più grandi sull'avampiede e questo sicuramente ne giova a chi magari fa delle distanze un pochino più lunghe. Ma arriviamo dunque a capire a chi consiglia queste cascadia 18 e soprattutto dove utilizzarle. Secondo me è una scarpa per persone che corrono veloci e fanno distanze medie. Diciamo persone che corrono tranquillamente anche tra i 4.30 e i 5 al chilometro, che fanno distanze, che magari non superano la maratona, ma soprattutto persone che magari stanno cercando anche una scarpa uguale a correre su terreni particolarmente tecnici, perché lei è sicuramente l'ideale. Infine arriviamo al prezzo perché queste cascadia 18 le si può trovare a 140€ sul sito ufficiali Brux, ma online magari le si trova anche a qualcosa a meno. Io ve le consiglio sì, perché stiamo parlando di una scarpa abbastanza a tutto fare, nel senso che ci si può correre tranquillamente distanze medie. Una scarpa comunque dall'ottimi materiali, che la fan pesare solo 320 grammi nella taglia 42, che dire, un'evoluzione della 17 che non è stata un stravolgimento, ma ha portato solo qualche miglioria sicuramente necessaria. Etto ciò ragazzi, una speranza sia stato esattamente sostenuto anche per questo video, vi ringrazio di aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!